Ok, ciao a tutti, ancora Skyrim Siamo fino a Wightran E cerchiamo di fare questa missione Ovvero raggiungi tra le varie Raggiungi questo luogo, raccogli guldun e uccidi il gigante Geograficamente parlando siamo qui Qui c'è Wightran E qui c'è il gigante Ok Dunque il punto è questo Il gigante è quello là Quindi Vediamo cosa possiamo fare per tirarlo giù Chiaramente sono da solo, non ho il follower Penso che andrò direttamente corpo a corpo Ci abbiamo uno scudo nanico Deve andare con la mazza di Molag No Andiamo con l'ascia d'acciaio E ovviamente carne di quercia Proviamo Il problema è che sono due Porca puttana Ce l'ho visto bene Sono due Questo potrebbe essere un problemaggio Vediamo un po' che ne esce Il mondo ghiatto Non è che me l'hanno visto Lui è il nostro amico Ok Sono un po' troppo avanti Porca troia Quindi leviamo Soffio di fuoco Ok Quindi Mi devo alzare Ottimo Sto nella merda Sto nella merda Nella merda Nella merda Perfetto 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 Che ci creava un po' di problemi Perché Chiaramente In due Venivano là E Ci facevano un discreto mazzo Tirato giù Semplicemente Cercando di aggregare solo lui Piano piano L'ho portato fino alla Ok Con frecce di Porco vento Troppo l'ho scoperto Sto usando frecce di Frecce di Orchesche Orchesche Porca caccia Volevo usare frecce norte Bene Scusate Faccio un bel save Prima che E facciamoci il nostro bel target Il nostro bel target Si nasconde Infatti Il famone Ma ci ha visti Sa che siamo qui Ci sta cercando Ci sta cercando Nuovo livello Perfetto Ha smesso di cercarci Adesso Facciamo il mazzo Ok Ci ho visti Sto messendo Gli pochi Come bruciare le frecce Cario di garcia Bueno Oh yeah Ciao Tutta sta bip Per niente Bene Per niente Per niente Per niente Per niente